Per noi oggi è una giornata molto importante, aver riunito insieme rappresentanti delle scuole, quindi docenti con i loro allievi, l'Istituto Comprensivolo Paolo Brosselino, l'Istituto Tecnico Commerciale di Mazzara del Vallo, l'Auser, la Comunità Terapeutica Casale Giovani, la Mimosa, Piccole Donne, tutte le associazioni presenti nel territorio per poter dare dei messaggi, dei contenuti. Il rischio in questa giornata, che poi è quello che un po' mi attanaglia da sempre, è quello della retorica, cioè di parlarci addosso, di riempire dei vuoti con parole a volte inutili e anche che tra l'altro non danno nessun aiuto e nessun sostegno. L'impressione a volte in questi incontri è quello che è servito, sarà servito. Oggi, anche se è una giornata che ho iniziato con molta pesantessa, nel senso che chiaramente siamo carichi di sofferenza per i recenti fatti, però alla fine sono contenta di aver svolto questo incontro, grazie alla preziosa collaborazione di Giussi Grimaudo e dell'Associazione Percorsi con Angelo Ditta, ma di tante belle persone che ci sono state vicine. Dico, concludo la Cati Mangiaracina con la Scuola Vitarte, Scuola di Teatro. Proprio concludo che è un momento importante e spero sia arrivata la cittadinanza. Ragazzi, prima di tutto, ma anche le persone adulte che possono trarre delle informazioni utili per vivere meglio in una società in cui ci sia più il senso della cura e della comunità. Oggi, in questa giornata, ci è stata molto vicina a Giussi Grimaudo e volevo un attimo che anche lei potesse dire qualcosa sulla giornata insieme e su quello che abbiamo sviluppato in questa mattinata. Io innanzitutto ringrazio Demetra nella persona di Alba perché è la giornata che è stata organizzata con una diversità di voci e di punti di vista, di età, perché abbiamo avuto la possibilità di essere ascoltati da un vescovo, da un carabiniere, da un'università degli anziani, da un'intera scolaresca, da tutte le associazioni e le istituzioni che sono preposte appunto alla prevenzione e anche alla persecuzione di quello che sono i reati nei confronti delle donne. Ci auguriamo che questo percorso formativo possa essere esteso anche ad altri livelli e speriamo che... inveglio per noi donne. È una giornata particolarmente importante perché stiamo prendendo coscienza di fatti che colpiscono molto l'emozione, ma se dopo l'emozione non c'è una progettualità, l'emozione serve a nulla perché la lacrimuccia o il gesto simpatico di lasciare un ricordo sulla casa va benissimo, però quello che ci serve è recuperare le relazioni, le relazioni vere per superare la solitudine di tanti maschi che nella loro fragilità possono reagire con un'aggressività che arriva fino al femminicidio e questo non lo possiamo più tollerare. È una manifestazione molto importante e abbiamo ringraziato per l'invito perché riteniamo che il tema è cruciale per la nostra società, che sia quindi necessario quel cambiamento culturale sicuramente oggi necessario e non più rinviabile. Noi come Sorgenia siamo vicini alle comunità locali, pensiamo che ci sia materiale per lavorare insieme e per sviluppare la collettività rendendola più accogliente e più serena. Le nostre iniziative sono note al territorio, quest'anno sono sei anni che portiamo avanti la nostra manifestazione sempre 25 novembre perché riteniamo che 25 novembre non è solo un giorno ma tutti i giorni, ogni giorno è un giorno contro la violenza sulle donne. Quest'anno abbiamo con l'aiuto e il supporto nazionale pubblicizzato il numero antiviolenze stalking 1522 che abbiamo portato anche qui a Mazzara del Valle, abbiamo avuto il piacere di condividere con il sindaco e l'assessore affiggendolo anche presso gli uffici pubblici e rilasciando una serie di locandine che potrete affiggere nella vostra comunità. Ringraziamo ancora e quindi speriamo di aver fatto conoscenza, diffondere, metterci voce, mettere gli strumenti a disposizione per un miglioramento sociale.